Siamo a Treviso, alla casa di Carresi, in occasione della mostra della DEM che si intitola Art Ambassador e siamo qui di fronte a un'opera di Nicoletta Barzon che è un'artista eclettica che proviene dalla grafica e fa delle immagini molto incisive. Io penso che sia un modo di esprimersi molto contemporaneo. Abbiamo tanti esempi dell'arte più fresca, più giovane che dimostra che c'è un'attenzione mondiale su questo genere di linguaggio. Io volevo chiedere a Nicoletta se in qualche maniera c'è un percorso che l'ha portata a esprimersi in questo modo. Allora io sono partita con l'affresco, poi ho lavorato molto con l'acrilico e alla fine ho sperimentato anche l'olio e ovviamente altre tecniche. Alla fine ho capito che quello che mi interessa è il puro segno grafico, quindi pochi materiali, poche cose, pochi colori, tutto essenziale. Perché il segno secondo me è che deve esprimere quello che penso? Ecco, questo è un atteggiamento da osservare in tanta arte contemporanea, dove si dà molta importanza al contenuto e quindi si sintetizza moltissima la forma e si percogliere diciamo l'essenziale. Ecco, anche in quest'opera come vedete c'è un soggetto che viene risolto semplicemente con due colori, bianco e nero, ha una forma, ha una posa, c'è questo intervento che vedete del filo che corre tra le mani e si ferma sui capelli che sono probabilmente l'enigma da scoprire. Ecco, l'artista non esprime mai quello che può essere esattamente il suo punto, il punto dove ha indirizzato la sua freccia. Lascia che siano gli spettatori a trovare un pochino il senso di questa immagine. Io direi che tu sei molto più incisiva e molto più, se posso permettermi, grafica rispetto per esempio a Mbansky dove ci sono delle, questo modo di fare che tralascia quelle che possono essere le purezze delle forme perché si indirizza direttamente al soggetto, al contenuto, quello che sta raccontando. Ma se vedete nell'arte Nicoletta, l'attenzione grafica in realtà è molto curata, è molto definita e questa la caratterizza e la fa diventare un'artista, diciamo autonoma e piena di grandi possibilità per il futuro. Ecco, vi invito a tutti a venire a vedere questa mostra e l'opera di Nicoletta Bazzon a Treviso, la casa di Cararesi. Grazie. Grazie.